Vengono qua, si divertono, frutta, verdura, pacco gara e poi oltre che mangiare non puliscono neanche a casa loro perché qua fate tutto voi, anche le foto a gratis ci sono le signore qua che sono più importanti di voi oggi, complimenti signora signora posso sapere il suo nome? come mia mamma, come mia suocera e come mia figlia, che bel nome, la signora? Maria, come mia zia Maria, la sorella di mia madre, lei signora? Teresa, come l'amica di mia sorella ma che meraviglia signora posso sapere il suo nome? allora assunta, lei non è licenziata è assunta signora, lei? io mi chiamo Lucrezia bel nome Lucrezia però attenzione perché c'è Lucrezia che ha avvelenato parecchie persone lei non è quella? è quella, è quella che bella signora, scusa, posso sapere il suo nome? Damiani Teresa Teresa, tu è Teresa allora? e la signora come si chiama? come si chiama lei? io sono la Presidente dell'Agapur a lei la, no, 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 Parisi Michelina sì, sono Parisi Michelina l'importante è la mamma di Santa Martella la mamma di Santa Martella io sono Antonio Bronda ah ecco, è famosissima no, no, no bellissima grazie, quello sì famosissima non mi piace perché non voglio essere famoso perché le persone famose poi vogliono subito a 40 anni io me lo devo arrivare a 40 anni grazie 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 a San Ferdinando vogliono le pettore pure o i carciofi ripieni al limite i carciofi ripieni attenti che bruciano, eh vado a te grazie 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 grazie